Per Cazzano è un anno particolare, innanzitutto ci presenti quella festa che dura tutto l'anno. Allora quest'anno per la nostra comunità sono 160 anni a cui è stato aggiunto a nome Cazzano l'apostolo patrono Sant'Andrea. Infatti non tutti sanno che nel 1862 all'indomani dell'Unità d'Italia, con regio decreto, Re Vittorio Emanuele II chiede che nei paesi omonimi venga aggiunto un secondo nome che può essere un fiume, una montagna o nel nostro caso il Santo Patrono. E quindi il 28 giugno del 1863 Re Vittorio Emanuele II autorizza ad aggiungere Sant'Andrea a nome Cazzano. In Italia c'è un solo altro paese che si chiama Cazzano e che noi conosciamo perché il gruppo Alpini è gemellato e è Cazzano di Tramigna che si trova nel Veronese. Come avete deciso di ricordare quindi per tutto questo 2023, questo appuntamento? Come parrocchia abbiamo istituito un anno dedicato a Sant'Andrea, la statua rimarrà esposta in chiesa parrocchiale tutto l'anno e ogni 30 del mese verrà celebrata una messa in onore di Sant'Andrea. Abbiamo iniziato il 30 novembre 2022 e termineremo il 30 novembre di quest'anno. È stato un lavoro lungo, intenso, soddisfacente, una ricerca storica che ha portato a risultati importanti per valorizzare le figure della sua Cazzano. Sì, è stato un lavoro, diciamo, ma è stata un po' la mia passione da alcuni anni. Tanto è vero che quando abbiamo fatto nel 2010 il libro, un quaderno, diciamo, dove abbiamo riportato un po' le storie di Cazzano un po' sintetizzate per essere di facile lettura e sull'esperienza di quella, di quella stessura di quel libro avevo proposto per organizzare queste ricorrenze. Poi quest'anno, poiché è l'anno della cultura, capitale della cultura Bergamo-Breccia, pensavo che fosse interessante e ho chiesto ad alcune persone se collaboravano, difatti alcune sono qui stasera, una non c'è per motivi di lavoro una non c'è perché doveva andare a arbitrare una partita, ecco però un gruppo di persone che abbiamo lavorato abbiamo pensato, steso un po' di documentazione e per arrivare Franco Irranca che gli ho fatto vedere le cose mi ha detto sarebbe il caso di stendere ancora un libro. Io penso che ho un'età, è una situazione che dei libri non estenderò più e anzi questi documenti qui li archivierò li passerò a qualcuno che vorrà e chiudo bottega, in modo che così qualcuno nel tempo, speriamo, che vengano ricordati un po' nel modo più importante, tra l'altro ci ha intenzione, ci ha parlato che quest'autunno avevamo chiesto al gruppo di teatro Circolo Fratellanza c'era disponibile a mettere in scena, a rappresentare la vicenda delle miniere c'è piena disponibilità da parte del regista, però abbiamo sospeso, pensiamo, magari quest'autunno, non so, vedremo e quindi per stendere, siccome è una storia che coinvolge sia Casnigo, sia Cassano, sia Leffe, quindi può essere un argomento e sicuramente sarà un argomento perché lo si è visto quando nel 2010 abbiamo messo la lapide al cimitero sono stati trovati i vicendenti di questi minatori che non sapevano che un loro ascendente fosse coinvolto e fosse ancora sepolto le miniere, sono venuti addirittura da Milano, parenti e quindi speriamo, speriamo la speranza è l'ultima a morire. Giammatista Gherardi ci ricorda invece un anniversario particolare per Cassano, quello che è stato celebrato alla fine di febbraio, il 150esimo anniversario della disgrazia nelle miniere di Lignite. Sì, come diciamo questa sera, sono molti gli anniversari che riguardano Cassano, Sant'Andrea, alcuni giustamente celebrativi altri purtroppo, come in questo caso, che ci ricordano una tragedia davvero importante, probabilmente la tragedia sul lavoro più importante dell'intera Val Gandino. Questi ricordi sono dovuti innanzitutto all'impegno di Antonio Bernardi che ha coordinato un piccolo gruppo di lavoro dedicato proprio a questi temi, poiché la ricerca storica e anche la memoria collettiva da parte di tutta la comunità sono elementi sicuramente importanti. Quello delle miniere è stata una pagina davvero triste della storia di Cassano, poiché nella notte fra il 27 e il 28 di febbraio del 1873, esattamente 150 anni fa, si verificò una frana nella località Ruca di Sotto, allora un poco discosta da quello che è il paese, oggi di fatto comprese in quella che è la proprietà del copertificio Zambaiti, e in questa località si sviluppò una frana con un fronte di circa 120 metri ed una profondità di 15. La frana finì per ostruire i due unici ingressi della galleria delle miniere di Lignite, miniere che erano attive già da tempo e che poi sarebbero proseguite ancora per qualche anno prima di un sostanziale divieto dell'utilizzo delle gallerie e quindi proseguite verso la fine del secolo con lo scavo a giorno. Di fatto i 13 minatori avevano da poco cominciato il turno di notte che cominciava alle 22 e si calavano nelle gallerie attraverso due ingressi che avevano una profondità uno di 20 metri e l'altro di 23, dicevo si calavano attraverso degli argani azionati a mano, così come a mano veniva portata in superficie attraverso probabilmente gli stessi argani Lignite. La frana di fatto ha ostruito entrambi gli ingressi e non c'è stato modo per una quindicina di giorni di fatto fino al 13 marzo, quando poi le ricerche furono sospese, di poter estrarre quei minatori. Quindi 13 lavoratori, 2 erano di Casnigo, 3 erano di Cazzano di cui uno residente alle F e 8 erano le Fesi, rimasero per sempre sepolti là sotto al punto che la località per molti anziani di Cazzano è ancora denominata oggi il Bosco dei Morti. Una tragedia davvero importante, a ricordo della quale nel 1960, proprio su quello che fu il luogo della frana e delle due ingressi ostruiti, fu eretta una tribulina votiva. Fu voluta da Adamo Colombi che dopo un incidente d'auto che ebbe nel 1958, due anni dopo, avendo avuto fortunatamente salva la vita ed essendo riuscito a curarsi, decise quasi con scopo anche votivo di ricordare questi minatori che invece non ce l'avevano fatta. Quindi era essere la tribulina che poi la famiglia ha continuato a curare, sia soprattutto il figlio Gian Battista e ora anche i nipoti, nipoti Adamo e Maria Elena, che nel 2010, nel cinquantesimo dell'erezione della tribulina, hanno voluto aggiungere anche una piccola pietra proprio a ricordo di nonno Adamo, che aveva voluto questo ricordo. Diciamo che in paese, a ricordo dei caduti della miniera, c'è anche una lapide che nel 2013 è stata inaugurata all'interno del cimitero di Cazzano Sant'Andrea, allora ricorrevano i 140 anni dalla tragedia. Una lapide nella quale sono elencati tutti i 13 caduti del 1873, ma in cui viene idealmente ricordato anche il sacrificio di tanti altri lavoratori, compreso quello di Pasquale Bonandrini, che morì sempre lavorando nella miniere di Lignite della Valle, nel 1947, probabilmente l'ultimo operaio morto sul lavoro in quella situazione. L'idea è quella di ricordare quest'anno anche un altro anniversario, in questo caso si tratta di un anniversario dei 110 anni, del conferimento della cittadinanza onoraria all'ingegner Giulio Cola di Gatteo Mare, una figura molto importante in quella che è stato lo studio del sottosuolo della Val Gandino, lo studio per lo sfruttamento delle miniere, e che è una figura che per questo ottenne proprio il massimo degli onori da parte dell'amministrazione comunale di allora e che contribuì non poco anche allo sviluppo di un'attività che di fatto era la base di quella che voleva essere un'autarchia energetica di tutta la Val Gandino. Oggi un poeta ricorda a tutti noi il significato delle miniere e dei prodotti che si estraggono. Il poeta è Valerio Magrelli e dice Tu dormi accanto a me, così io mi inchino e accosto il tuo viso, prendo sonno come fa lo stuppino da uno stuppino che gli passa il fuoco. e i due lumini stanno mentre la fiamma passa e il sonno fila. Ma mentre fila, vibra la caldaia nelle cantine. Laggiù si brucia una natura fossile. Là, in fondo, arde la preistoria. Morte torbe sommerse. fermamente avvampano nel mio termosifone. In una buia ureola di petrolio, la cameretta è un nido riscaldato da depositi organici, da roghi, da liquami. e noi, stuppini, siamo le due lingue di quell'unica torcia paleozoica. Tra le tante celebrazioni, anche un uomo particolare, un mestiere particolare, è lasciato un ricordo importante nella comunità. Ma, capita spesso che in alcuni comuni, in alcuni paesi, in alcune nazioni, ci siano dei soggetti che abbiano interpretato in modo fantastico quello che è il periodo in cui sono nati e poi hanno avuto la capacità di interpretare in modo serio il lavoro e la passione che avevano. Angelo Tacchini, penso proprio che, nasce nel 1848 e more nel 1928 a Firenze, nasce a Cazzano, ed è uno dei soggetti che ha meglio interpretato quello che era una capacità di unità, che probabilmente aveva voglia di portarsi ai massimi livelli, a livello, diciamo, anche europeo. Era un topografo, un geodeta, era un garibaldino, era un uomo che ha avuto la capacità di essere chiamato negli istituti sia di Napoli che di Firenze negli istituti topografici e ha, diciamo così, ereditato un po' quello che era un mestiere che facevano addirittura gli egiziani, per cui misurare il terreno e avere la possibilità di creare le prime carte in scala 100.000 non è stato un gioco da ragazzi, anche perché la strumentazione che noi adesso abbiamo era assolutamente impensabile nei suoi tempi, quindi grandi sacrifici, grandi spostamenti, un'approssimazione che poi effettivamente si è rilevata molto buona e questo fa di lui un soggetto che a Cazzano Sant'Andrea ha portato assolutamente l'ustro. Quindi una figura che va ricordata in modo attivo? Effettivamente qualcosa di Angelo Tacchini a Cazzano c'è, la strada centrale è stata intitolata lui, anche la scuola elementare, però io credo che le cose vadano non solo diciamo così apposte su una lapide o piuttosto che su in una statua, ma vadano ricordate anche per le future generazioni. Ed avere qualche elemento in un paesino come Cazzano Sant'Andrea di 1600-1700 anime non è una cosa sbagliata. Credo che i ragazzi, soprattutto i giovani, abbiano e debbano conoscere chi ha dato lustro al paese. A volte ci si chiede il perché di una strada intitolata ad un personaggio e forse sarebbe il caso anche di spiegare il perché.